Ehi, LED, benvenuta a Monster High! Grazie ragazze, non vedo l'ora proprio di dare un'occhiata al vostro regno, sapete io vengo da New York, lo sappiamo, ti conosciamo molto bene, Ellie. Ti presentiamo un po' di cose, vieni dai, facciamo un giro. Wow, ragazze, bellissimo regno, ma dai, entriamo dentro perché da dentro è ancora più spettacolare. Wow, ma è fantastico! Eh sì, hai detto bene, siamo molto orgogliose del nostro regno, assolutamente. Ehi, ciao Bee, io sono Draculaura. Ciao, io sono Ellie. Ah sì, certo, ti conosco, sei famosissima. Noi seguiamo sempre anche New York. Ah sì, mi fa piacere, piacere di conoscervi, avete davvero un bel regno. Ehi, ciao Ellie. Ciao, ma anche tu fai musica? Certo, perché anche tu? Sì, io, sai, suono musica elettronica a New York. Elettronica? Fantastico, suoniamo qualcosa insieme. Woo! Musica spettacolare, dai, vieni tu alla console. Sei fantastica Ellie! Woo! Ragazze, ci divertiamo un mondo qui! Ellie, fantastica! Ora, però, dobbiamo pranzare. Ah, questa è la vostra cantina. Sì, la nostra mensa. Ma voi cosa mangiate? Ma noi, sai, mangiamo gelatina, scorpioni, serpenti, rane, un po' di tutto. Scusito, ne vuoi un po'? Eh, no, io non ho fame. Cioè, in realtà proprio non mangio mai. Ma oltre alla cantina c'è qualcos'altro? Ma certo, adesso ti facciamo vedere quello che abbiamo, eh? Vieni, ti portiamo da qualche altra parte del nostro regno. Fantastico! Ecco, qui c'è il bagno. Eh, ciao, ciao! Qui c'è un'altra parte del nostro regno, che è il piano superiore, dove ci stanno le nostre amiche pronte a prendere tutti gli appuntamenti. E qui, shh, facciamo piano, perché sta facendo una radiotrasmissione. Wow! E qui ci sono io! Ciao, Draculaura! Beh, Ellie, che dire? Tu puoi tornare quando vuoi, sei sempre la benvenuta. Grazie, ragazzi, è stato stupendo. E ovviamente anche voi a New York, quando volete.